Franco Ardivelle non se lo sarebbe mai immaginato, 50 anni in questo negozio, ma quello che ha accaduto ieri sera quando fra sei mesi dovrebbe andare in pensione davvero era inimmaginabile. Ha dato a casa la pelle e quello è l'importante, magari un po' bucherellata da sei coltellate però insomma l'ho portata a casa. E niente, cosa vuole che le dica? Non pensavo che nella cosiddetta isola felice di Belluno succedesse queste cose, potessero succedere queste cose. Rapina a Ponte Nelle Alpi, lungo Viale Dolomiti, colpito verso le 19 di ieri Ardivelle Alimentari. Quando l'attività stava per chiudere due malviventi hanno fatto irruzione nel negozio armati di una pistola e di un coltello. Mi ha fratturato la spalla, mi ha fatto sei tagli profondi e non me l'aspettavo così veramente. Poi basta guardare il sangue che c'è al negozio pieno di sangue. Cosa vuole che le dica? Speriamo che non succeda più. Quello con l'arma da taglia ha colpito il titolare, mentre quello con la pistola ha ferito al labbro un amico dopo avergli anche puntato l'arma in mezzo alla fronte. Quello che mi ha aggredito a me aveva un cappuccio così con il pelo attorno e aveva secondo me, come ha detto anche la questura, un sottocasco col bordo bianco. Quindi io praticamente gli ho visto solo parte del naso e gli occhi. Invece l'altro aveva una mascherina chirurgica. Sarebbe in grado di riconoscerli? Quello che mi ha aggredito sì, sicuramente. Ho ancora gli occhi davanti. Un aiuto importante potrà ora arrivare dalle immagini fornite dalle telecamere di videosorveglianza che coprono la zona centrale di Ponte Nelle Alpi.